Allora, intanto vorrei partire però dai vostri temi perché voi avete depositato il simbolo collegato alla lista dell'Alleanza Verdi Sinistra, quindi diciamo nell'ambito del patto col Partito Democratico, un patto però che sappiamo che ha diverse anime. Le chiedo allora qual è il vostro apporto specifico in questa coalizione con, dicevamo, voci diverse? Il nostro apporto fa piacere che in parte l'abbiamo sentito anche ieri in direzione nazionale, nel senso che nei giorni scorsi dal PD c'è stata fatta la richiesta di mandare le nostre battaglie, le nostre posizioni, il tipo di contributo programmatico che potevamo dare. Alcune di queste le abbiamo sentite ieri, quelle che riguardano il matrimonio ugualitario, la cannabis, la giustizia sociale sono sicuramente delle battaglie che noi portiamo avanti da sempre con molta determinazione. Sicuramente quello che possiamo portare è una maggiore incisività per quello che riguarda tutte le politiche sulla crisi climatica perché ce n'è davvero troppo poco in quel programma e sulla giustizia fiscale in generale. Noi siamo da sempre, ci battiamo molto su questo, che la progressività e la patrimoniale, ne parlavamo anche la settimana scorsa, che è una brutta parola per qualcuno, però crediamo che sia il modo migliore per ripristinare un po' di giustizia, che dalla giustizia fiscale diventi giustizia sociale. E quindi noi portiamo un contributo sui temi. specifico, le chiedo ma parlava forse del Partito Democratico? Cioè degli accordi che il Partito Democratico ha trovato? O di quelli che non ha trovato? No, no, non parla degli accordi del Partito Democratico, parla degli accordi in generale di tutto quello che è successo in questi giorni, in queste settimane, invece che parlare, appunto, come si diceva anche poco fa, del Paese, delle proposte da fare per il Paese, invece si è parlato molto più di persone, di chi se ne andava, di chi veniva, di chi non voleva qualcun altro e di tutto un po' un pastrocchio molto ad persona, ma invece che parlare invece di un Paese, della proposta che si fa, invece che rincorrere gli altri, appunto, parlare di quello che si propone, perché ci si propone a governare. Che non è mai stato di fatto percorso in questa fase col Movimento 5 Stelle, quella porta è stata chiusa in modo definitivo, secondo lei si è rinunciata a una possibilità invece importante, quello era un dialogo che andava ripreso, nonostante quello che è successo, la crisi del governo Draghi e tutto il resto, secondo lei quella era una via che andava percorsa ancora? Secondo me andava percorso, sì, andava percorso perché la legge elettorale ci impone un tipo di ragionamento che va oltre a tutto quello che può essere un programma comune e un tipo di pregresso che può esserci stato anche nella scorsa legislatura e tutto quello che è successo in coda. Se l'obiettivo principale è quello, come Letta continua a dire, giustamente perché comunque io lo condivido, che deve essere quello di fermare una stravittoria soprattutto di questa destra, è chiaro che un ragionamento un po' più freddo forse bisognava farlo, io avrei tenuto dentro tutto il più possibile dal Movimento 5 Stelle a Renzi per quanto mi riguarda, pur avendo posizioni completamente diverse dagli uni e dagli altri per tante questioni, però questa legge elettorale che è orribile, che non abbiamo voluto e che abbiamo ostacolato in tutti i modi, però non permette di fare ragionamenti molto diversi perché le regole sono queste, le regole del gioco, che non ci piacciono ma sono queste, quindi io avrei cercato dei punti in comune per tutti mantenendo chiaramente ciascuno la propria identità, le proprie battaglie, chiedendo voti per la propria lista, ma con un ragionamento un po' più ampio, dopodiché non si è fatto e adesso bisogna giocare la partita in questo modo, però sicuramente io un po' più di riflessione l'avrei fatto e soprattutto avrei evitato questi bracci di ferro che abbiamo visto in queste ultime settimane. Ci diceva poco fa Beatrice Brignone di Possibile, parlavamo della riconversione ecologica che ovviamente è tra le priorità del vostro programma ed è ovviamente un tema che sappiamo l'attualità ci pone ovviamente come priorità, c'è però anche una crisi energetica da affrontare che ovviamente ci pone la necessità di avere delle risposte anche nell'immediato. Voi avete delle risposte nell'immediato, ovviamente sappiamo che questo forse fa anche ritardare un po' quella transizione ecologica verso cui il nostro paese aspira? Noi siamo un paese che vive in emergenza continua, quindi è chiaro che nell'immediato da oggi al domani non si può fare niente, se non altro per dire quando si parla di crisi climatica e di cambiamenti, una delle prime proposte che si fanno sempre al di là delle questioni energetiche ma anche proprio per l'abbattimento delle emissioni di CO2 si dice piantare gli alberi perché ad oggi è la tecnologia diciamo quella più sicura e sicuramente gli alberi non è che si possono piantare nel giro di una notte e farli essere forti quanto dovrebbero nel giro di qualche giorno. Quindi è chiaro che se si parla di transizione ecologica è perché serve un passaggio e sull'immediato le risposte non si riescono a dare così efficaci, pronti a partire a settembre, per dire con ottobre con riscaldamenti. Però per affrontare questo problema ad esempio il Partito Democratico propone rigassificatori anche per un periodo breve di tempo, secondo voi questo è un compromesso accettabile? Ma innanzitutto la questione un pochino più ampia perché ci sono proprio delle questioni tecniche che dovrebbero essere un po' più chiarite, ma quello che non è chiaro è se dopo questo, siccome del rigassificatore si parla da anni e ogni volta tornano, io per esempio abito nelle Marche sull'Adriatico e qualche anno fa si parlava di rigassificatore qui davanti e ogni volta il rigassificatore torna. Dopodiché, tolto l'immediato, non c'è mai una progettualità un po' lunga. Cioè si vuole investire o no nella produzione di energia pulita, in una rete più efficiente, in uno smaltimento di tutti quelli che sono i rifiuti in maniera più organizzata nel futuro. Cioè si vuole fare o meno perché se no parliamo e ci fermiamo al rigassificatore come può essere la soluzione del momento, ma non si parla poi di tutto il resto perché passata l'emergenza questa cosa non c'è più, non c'è proprio la visione di volerlo fare. Sicuramente, sicuramente manca... E appunto, siccome sono cose che richiedono investimenti e periodi, sicuramente ci sono... Manca la progettualità, manca la visione un po' lunga. Manca la progettualità, manca la visione un po' lunga.